Sì, stiamo bene. Ricevuto. Me ne accerterò. Saremo lì presto. Che cosa ha detto? Ho le coordinate del punto d'incontro. È vicino. Ottimo. Leggiti forte! Cercano di eliminarci! Sì, ci sento! Lo sa Dio come faremo uscire da qui! Oh mio Dio! Jake! Questa città sta andando all'inferno. Ehi, spara a quel coso! Inizia a fare male davvero! La prossima ruba una limousine! Tieniti più forte che puoi! Jake! Oh, figlia di... Donnazione! Correggerò ancora! Sì, che puoi! Sto arrivando! Tutto ok? Sì, va in la presa! 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 L'elicottero è tornato! Il bastardo ci aspettava! Tieni duro! Ci sono addosso! L'elicottero è tornato! 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 Sì, bene. Avanti. Merda. Ma guarda, ci sono anche rappi dei suoi boy scout. Jake! La squadra di Chris ci ha aiutato. Non ci serve il loro aiuto e non glielo ho chiesto. So che a noi vi piace, ma se Chris fosse qui... Va bene, va bene. Basta con Raspis. Non ne posso più. Non sanno con chi hanno a che fare. È ora di farglielo scoprire. Sì, è ora di farglielo scoprire. Sì, è ora di farglielo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Jake! È l'ultimo! Grazie a tutti. 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 Adesso avuto su un'elicopera. Come? Con cosa? Non lo so. Inventerò qualcosa sul momento. Chris cerca di abbattere l'elicopera. E' un'elicopera. E' un'elicopera. E' un'elicopera. E' un'elicopera. So' Forza. E' un'elicopera. 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 Ottimo. Non mi chiedi nemmeno se sto bene. Non sei indistruttibile, ragazza bionica? Non. E' un'elicopera. E' un'elicopera. Oh 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 A presto! È aperta! Forza! 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 Non avvicinarti! Finiresti a pezzi! Grazie! So cosa può fare una motosega! No! Ora! E' tutto tuo! Prendi questo, faccia di merda! Non funziona. Credo sia morto. Credo sia morto. Ehi, americano! Credo sia morto. 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 Ma è... Leon! Sherry, che ci fai qui? Faccio parte della scorta Sì, ho saputo che sei un agente E tu cosa ci fai qui? Seguo il colpevole di tutto questo Il capo della sicurezza, Simmons Cosa? Ci deve essere un errore, io sono agli ordini di Simmons Lui è il tuo capo Stiamo andando da lui proprio ora Dove si trova? Devo sapere Lascia fare a me Credevo avessi l'ordine di evitare contatti con chiunque Leon non è una persona qualunque Mi ha salvato la vita a Raccoon City Eh, va bene Attenzione! Leon! L'aereo! No, ancora lui È amico tuo? È una specie di ex che non sa quando mollare il colpo Benvenuto nel club Vedrai ci si fa in calo Attenzione al braccio Ok Ehi, cervello marcio Di qua La nostra occasione Dai! Dai! Ah! Ah 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Se solo funzionasse, potremmo sfondare il muro. Roger. Posso riparare. Sherry, mettiti al volante. Ci sono. Roger. Ok, muoviamoci. Roger! È ancora in piedi. Lasciamo perdere! Ma forse in quattro riusciremo a fermarlo! Dove che potremmo sfondare il piuttosto! Scrappare. Non ti auguro. Iscri. Ma forse. Siamo. Siamo. Si porta dietro i campi? Devo armetterlo. Almeno è preparato. Come dicevo, è indistruttibile. Speriamo che si esagerano. Troppo no, ma non significa che ne andremo vinta. Ah! 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 Se non arriviamo, devi... Ehi! Se è solo la metà di come lo descrivi, starà benone. Ok? Hai ragione. Sperchiamoci. Ehi! Ah! Oh no! Grazie a tutti. So quel che faccio. Kucheng è più avanti, alla focce del fiume. Ok, andiamo. Ti preoccupi per Simons, vero? Andrà tutto bene. Ok? Andiamo! Sei stata tu? Cristo santo! Attenzione! Stagio di là, finisce. Avanti! E' tornato! Quel bastardo non la smette! Un po' non mi conto... Un po' non mi conto, un po' non mi conto. Un po' non mi conto... attenzione qualcuno ci sta sparando non ci spara ci aiutano sono i tuoi amici della attenzione Credo siamo là! Speriamo che lo respi! Speriamo che! Speriamo che lo respi! Speriamo! 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 Sì. Quasi. Ok, arriviamo appena possibile. Il boss ti tiene sempre d'occhio, eh? Per ora. Allora andiamo. Allora andiamo. Allora andiamo. Allora andiamo. Se Leon ha ragione su Simmons, voglio che tu scappi. Qualunque cosa debba succedere, ti prego, promettilo. Va bene. No, aspetta! Ah, agente Birkin, un tempismo impeccabile. Le dispiacerebbe a restare subito questi due? Dicono che fai parte dell'attacco terroristico. È vero! Cosa? Se ne vanno in giro per le strade, gridandolo ai 420? Rispondimi! È tutto per il bene degli Stati Uniti e per la sicurezza globale. Non vedo come uccidere il Presidente Jovi alla d'azione! Il Presidente è morto. Beh, dobbiamo ringraziare Leon per questo. Maledizione, Siphons! Eliminateli! Maledizione, Siphons! Maledizione, Siphons! Maledizione, Siphons! Che farete voi due? Elimineremo Siphons! Qui ci sono informazioni che potrebbero fermare il virus C. Simons le vuole. Grazie. Chiamerò la base e farò in modo che vi proteggano. Ora andate! Vai! Scappa! Non se ne parla! Ma l'hai promesso! Ho mentito. Chahi! 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 Chahi!